Sono Ginevra, ho 21 anni e sono una pianista classica. Sono di Milano anche se sono nata in Francia e a dieci anni sono entrata a far parte del coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala. Devo dire che nel mio percorso pianistico ho avuto tante soddisfazioni, per esempio sono stata nominata dal presidente Sergio Mattarella al Fiere della Repubblica per meriti artistici. Il fatto di essere donna non mi ha ostacolato nel mio percorso pianistico, anche se è pur vero che il mondo della musica classica è ancora un baluardo da espugnare, basti pensare alla direzione d'orchestra o alla composizione se pensiamo alle pari opportunità. Però è anche vero che questo può rappresentare una sfida interessante e io mi auguro nel futuro di vedere sempre più donne ricoprire ruoli importanti nella musica classica sia a Milano che nel resto del mondo.